Il Museo di Scienze Naturali di Fano, situato all'ultimo piano di Palazzo Bracci Pagani, si arricchisce grazie alla donazione della famiglia Pierini. Mario Pierini è stato un professionista con una grande passione per il mondo dei minerali. Aveva messo assieme una splendida collezione di quarzi, acque marine e di tutto il meglio che il mercato specialistico mettesse a disposizione degli appassionati. La sua casa era diventato un meraviglioso museo che metteva con orgoglio a disposizione di studiosi e studenti. Anni fa, quando il Circolo Castellani, grazie al supporto della Fondazione Carifano, iniziava a costruire il Museo di Scienze Naturali, Mario, con la sua presenza giornaliera e la sua appassionata competenza, ha collaborato all'allestimento delle esposizioni mineralogiche. Credeva così tanto nell'iniziativa che aveva espresso alla moglie il desiderio di non disperdere il frutto della sua passione, ma di renderlo parte integrante del museo. E così, in ottemperanza al desiderio del marito, la signora Angela ha voluto donare questa splendida raccolta alla Fondazione Carifano per metterla a disposizione della collettività. La famiglia Pierini ha deciso di donare la collezione di Mario Pierini alla Fondazione, un gesto importante, soprattutto anche denso di significato, per valorizzare il Museo di Scienze Naturali. Cosa ha spinto la vostra famiglia a fare questa donazione e qual è, diciamo, il lascito che fa Mario alla Fondazione? Lui ha sempre tenuto in grande considerazione il fatto che anche altri potessero godere di quello che godeva lui, insomma, gli piaceva molto e voleva renderlo noto agli altri questo. Ha sempre pensato di darli. A un certo punto ha deciso, ha messo in un armadio quelli che voleva dare per primo, e dice, quando io non ci sarò più, questi vanno subito là e quindi così è stato fatto. Possiamo dire anche che il signor Pierini ha contribuito a realizzare questo museo, quindi c'è parte del suo contributo, ma soprattutto oggi con la firma del notario il museo va ad arricchirsi con 92 pezzi che implementeranno questa collezione. Sì, insomma, io non è che ho fatto molto, sinceramente. Lui è stato quello che ha approfondito lo studio di tutti quanti, ha partecipato a molte mostre, ha fatto anche delle tesine appropriate sui quarsi perché era il ramo che gli piaceva di più. Presidente Gragnola, oggi è una giornata importante perché è stato notificato l'atto del notario per questa donazione della famiglia Pierini che va ad implementare il Museo di Scienze Naturali della Fondazione Casa di Risparmio di Fa. Sì, è un giorno importante per la Fondazione perché il nostro Museo di Scienze Naturali, già bello, importante e che accoglie tante cose importanti per il nostro territorio, si arricchisce di una collezione molto significativa per la famiglia Pierini e molto significativa per il nostro Museo di Scienze Naturali. È un giorno particolarmente importante perché questo testimonia ancora una volta che la Fondazione continua a ricevere donazioni importanti da parte della comunità di riferimento. Questo ci conforta nel ritenere che l'attività che la Fondazione sta portando avanti da oltre 30 anni è sempre più vicina alla comunità, è sempre più vicina alla gente e la Fondazione diventa un punto di riferimento anche per donazioni di qualsiasi natura che vanno ad arricchire il patrimonio del nostro ente.